La comunità di Clusone, comune in provincia di Bergamo, è in lutto per la morte di Veronica Pegurri. Una 29enne morta nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio a causa di un malore improvviso. Il dramma, mentre la 29enne si trovava nella sua casa in provincia di Brescia, la giovane, secondo quanto si apprende, aveva un problema cardiaco, tenuto però sempre sotto controllo. Veronica viveva insieme al suo compagno Luca e alla loro figlia di soli 11 mesi. La coppia, secondo quanto si apprende, avrebbe dovuto sposarsi a breve. Una morte, quella di Veronica, che ha sconvolto l'intera comunità.